Letizia Palmisano, che ci parlerà di cosa mettere nello zaino 2.0 e lavorare senza panico. Letizia. Eccoci. Spero di non fare confusione col telecomando. Buona giornata a tutti. Io, innanzitutto, ho fatto un casino? No, ci stanno pensando. Ok. Io mi... Su, su. Ho di solito un'incompatibilità con i telecomandi. Da sempre mi alzo per andare a cambiare... Eh? Ok. A posto. Grazie di avermi ospitato. Sono felicissima di essere al freelance camp 2019. Mi farò perdonare per l'assenza del 2018. Sono una giornalista. Nasco come giornalista ambientale. E sono specializzata soprattutto nella comunicazione cosiddetta 2.0. Mia è anche di un gruppo di influencer green con cui lavoro. E sono anche docente in tutti questi campi. Oh, ce l'ho fatta. Le slide, in effetti, potevano essere fatte un po' meglio. Questa volta sono arrivata un po' lunga. Quindi parlare dopo chi ci ha spiegato come dovevano essere fatti, in effetti, me le farebbe nascondere. Ma oramai le abbiamo e quindi ne parliamo. Spesso, nelle mie attività 2.0, mi occupo della comunicazione degli eventi. E quindi, avendo anche un bambino di sei anni, cerco il più possibile di andare e tornare in giornata. Quando parti da Roma e vai magari a Bologna, Milano, Torino, cerchi di portare tutto quello che ti serve, ma a volte per la fretta, perché il giorno prima hai lavorato fino a luna e via dicendo, se non ti sei preparato prima a questo benedetto zaino, quando arrivi su puoi trovare delle situazioni un po' spiacevoli, sia dal punto di vista personale che professionale. Una volta mi hanno detto, andiamo in un posto bellissimo, in aperta campagna. Quanta aperta? Guarda, vedrai, arriviamo a Milano, prendiamo un pulmino, un'ora, un'ora e mezza, due, arriviamo in mezzo a delle meravigliose risaie. Dico, ma il Wi-Fi? Non ti preoccupare, infatti non c'era. Dico, ma il cellulare prende? Ma prenderà? No, non prendeva. Poi vi racconto come è andata a finire, però ecco, le zanzare sì, quelle c'erano. E quindi, negli anni, nei vari viaggi, ho imparato come portare lo zaino più piccolo possibile, più completo possibile. Fare un evento, anche 2.0, è come una prima all'opera, una prima alla scala. Tu ti accorgi solo se avviene un disastro, ma non sai quanto lavoro c'è dietro, quanta preparazione, gli arnesi che si sono usati per fare la scenografia, la musica e via dicendo. E innanzitutto ho pensato di spiegarvi cosa intendo per evento, perché gli eventi non sono mai tutti uguali, sono tutti diversi, però un po' li posso categorizzare. A volte sono quella che deve fare i social per conto dell'evento, parlo a nome di una fiera. Qualche volta invece di chi partecipa alla fiera, ma l'ho reso io così gigante, ho sbagliato qualche cosa perché forse è più largo del... vabbè, comunque, tanto ascoltate me più che altro, quello serve più a me per pro memoria, tra virgolette. A volte faccio la comunicazione del partecipante alla fiera, la singola azienda che è sponsor, quindi ci inseriamo nello storytelling quotidiano già di chi organizza quella dell'evento. A volte invece l'influencer sono io e quindi racconto tramite i miei canali come vivo l'evento, il convegno, la presentazione di turno. Vabbè, poi c'è la comunicazione direttamente degli eventi online, come può essere un Twitter storm o un live social da seguire, però in quello lo zaino non serve, ho già tutto abbondantemente in ufficio. Il mio obiettivo ogni volta è arrivare bella, pronta e allenata a quella che diventa una vera e propria maratona social, però come tutte le maratone, se non arrivo con i vestiti giusti e una preparazione atletica, arriva uno strappo e non arrivi proprio alla fine, non è che arrivi ultimo, ecco. La prima cosa a cui tengo particolare attenzione è lo zaino. Oggi per esempio ce l'hanno dati di bellissimi, ma io il computer di solito non ce lo metterei. Tutto quello che vi racconterò, tutte le piccole accortezze, nascono da situazioni in cui io o qualche collega si è trovato impreparato. La prima cosa è appunto lo zaino, lo zaino perché? Perché di solito l'attrezzatura, per quanto una diretta social non richiede cose particolari, pesa e siccome ci tengo alla schiena a vedere l'ortopedico il meno possibile, preferisco lo zaino rispetto a una borsa. L'altra cosa è che lo zaino preferisco sia impermeabile e magari anche leggermente imbottito. Sapete, un giorno un amico mi chiama e mi fa, arrivo con il treno delle otto, ho appuntamento al negozio della Apple alle otto e cinquanta, aiutami, devo portare il computer. Acqua sul computer. Non vi dico quante centinaia di euro di danni, quanti giorni ha dovuto trovare un muletto. Però una delle cose a cui cerco di stare molto attenta è che il computer non faccia il bagno. Io odoro tantissimo il mare e la piscina, il mio computer no. Ho scoperto che il mio telefono può farsi il bagno, ma il computer no. Quindi impermeabile, non solo nelle giornate di pioggia, almeno il computer. Stavo con una studentessa, le è caduto lo zaino mentre stava bevendo alla fontanella. Lo zaino era solo di stoffa. Il computer. Ok. Quindi la prima cosa è non posso arrivare ad un evento e dire il computer si è bagnato, non funziona. No. L'altra cosa è che cerco di prenderlo proprio specifico, con tutta una serie di tasche. Cioè la taschina per il computer, quella per il tablet, il cellulare, quella dove metto magari qualcosa da mangiare e così via. Uno un po' strutturato. Anche perché magari siete a un evento, alla fine qualcuno vi dice, ah scambiamoci biglietti da visita. Non è che potete iniziare a tirare fuori tutto. Se sapete esattamente dov'è, in quale taschina, con oscialanza e professionalità gli date il bigliettino. E appunto quindi strutturato con una serie di spazi specifici e poi per esempio il computer che ho adesso mi è stato regalato da due colleghi. Il mio si era rotto, non era più impermeabile al 100%, mi si era tolto una parte di fodera e ho detto, oh che bello, c'è il pile, quando ho freddo ci metto le mani. Anche gli zaini si sono evoluti. Serve come antigraffio per i tuoi dispositivi. Considerato che oramai sono tutti super sensibili questi schermi. Nel mio caso, visto che lo faccio di mestiere, addirittura di pc da trasferta ce ne ho due. Uno che oggi qui con me è superleggero, un po' meno performante, che però, la cui batteria però mi dura anche 15 ore. Io non sapevo se qui avrei avuto una presa, quindi ho portato quello. Sono venuta a piedi, mi sono fatta 3,4 chilometri a piedi grazie a Google Maps e quindi preferivo portare qualcosa che fosse compatibile con il mezzo più ecologico possibile, appunto i miei piedi. E quindi, se invece ho esigenze molto particolari, porto quello un pochino più grande e un pochino più pesante. Ecco, qui con l'immagine non si vede, ma l'altra cosa di cui doto sempre il computer è un vestito. La second skin, motivo di cui sopra, anche nello zaino con tutti i divisori, un giorno mi si è aperta la bottiglietta d'acqua. Questo mi ha salvato la vita, perché immaginate arrivare a un evento e dire, appunto, che il computer si è fritto grazie all'acqua. La second skin è una fesseria, costa veramente 20 euro, per dire, non occupa spazio, è super leggera, ma vi risolve tante situazioni. Ero in Pullman, stavo facendo 7 ore di viaggio, sempre per quella cosa dell'essere cosostenibile, dalla Calabria a qui. A un certo punto l'autista che portava i caffè nel Pullman ha versato il vassoio dei caffè. Sullo zaino, aperto, la second skin mi ha salvato il computer, perché proprio sul mio computer, cioè di tutto il Pullman, dentro al mio zaino sono finiti questi 6 caffè. E l'altra questione è che l'attrezzatura, visto che uno lo fa di mestiere, sì, deve essere buona. Quindi, ad esempio, il cellulare controllo sempre la qualità delle immagini, che non si impalli, che la batteria duri. Se mi occupo di eventi, il cellulare deve durare più di me. Io a un certo punto sono stanca morta, lui no, deve essere bello lì con la sua batteria ancora al 40-50%. E ovviamente avere una memoria tale, per cui se mi chiedono di registrare un video, anche se non l'avevo previsto, e lo faccio col cellulare, non posso dire che dopo 30 secondi non lo posso più fare perché ho finito la memoria, ecco. E poi, avete visto, ho vari pc, ho anche vari cellulari. È tutto sincronizzato in cloud. Questo non c'è nello zaino, ma se voglio andare in giro solo con uno zaino, deve essere così. Non mi sto a portare hard disk esterni che poi magari il giorno prima non ho sincronizzato. Tutti i cellulari, i tablet e i computer si collegano online e hanno la versione finale del brief che mi hanno mandato, le foto degli speaker che ho preparato, e così via. E poi, io che sono molto per l'online, ho tutta una serie di piccoli adattatori offline. Per esempio, ho computer piccolo, non ha tutta una serie di uscite, a volte mi arrivano le richieste più strane per cose che devo dare o che mi devono essere inviate rigorosamente offline. Esempio. Questa è semplice, si risolve con una mail, ma tipo, faccio una diretta, tweet e via dicendo, arriva un ufficio stampa e mi fa. Io non ho scritto nulla perché ho visto che twittavi. Mi dai gli appunti che hai preso sul computer così faccio il comunicato stampa? Veramente. Per 30 secondi avevo pensato allo scherzo. E lei mi ha pure detto, veloce, dobbiamo mandare il comunicato. Ma dirmelo prima? Vabbè. L'altra cosa è, guarda c'è questo video, sono solo 500 mega, dovresti twittarlo. Quando? Adesso, quando parla lo speaker, perché è quello che proietta lui. Ma adesso, quando? Il prossimo evento? No, quello che sta per iniziare. Bene, ve lo potrei far mandare con WeTransfer, ma in alcuni casi lo manderei per l'edizione 2020, a quel punto. oppure mi dicono, tu che stai col computer, perché io ce l'ho per sport, ce lo puoi dare che dobbiamo proiettare una cosa? Quindi devo avere l'adattatore per il loro proiettore. E insomma, tra una cosa e un'altra, ho una piccola sacchetta che di solito mi porta appresso con tutta una serie di adattatori. E poi ho imparato, io ero rimasta alla lana cotone cotone del famoso film, che è maschio-maschio, maschio-femmina, femmina-maschio, di tutti questi piccoli adattatori. Per esempio, una volta andiamo a un evento e c'era un attacco prima dell'HDMI e il mio computer ci aveva solo quelli. E non era possibile inviare nulla, perché quel computer attaccato al proiettore era offline per regolamento interno, per questioni di GDPR, eccetera. Spuntano anche dei limiti psicologici, alle volte, all'interno delle strutture. E quindi tiro fuori la mia piccola sacchettina e cerco di capire come incastrandone a volte due o tre, una all'altra, l'altra e così via, riesco a risolvere la situazione. Dopodiché, se la vedo brutta, mi porto anche una prolunghina per evitare di lavorare così, mediamente attaccata all'unica presa esatto, la prolunga me la porto. Di solito specifico che la devo trovare all'arrivo, ma nel dubbio una me la metto nello zaino. E poi, per esempio, il cavo del cellulare ce l'ho anche lì sul tavolo, minimo lungo due metri, perché così se devo fare la diretta col cellulare o semplicemente mi serve, appunto evito pose per cui la sera richiamo l'ortopedico di prima o il fisioterapista. Insomma. E l'altra questione è appunto l'autonomia. Se devo fare una giornata intera fuori, magari mi porto una power bank un po' più grande, un po' più pesantina, ce n'è una che mi garantisce otto ricariche in una giornata. Se è una cosa tranquilla, ne porto una grande quanto un dito, ecco, più o meno. Però io tutte queste cose me le scrivo. Ho un piccolo elenco della spesa, prima di ogni viaggio, il giorno prima, dopo il caffè, momento migliore, mi faccio il check. Questo c'è, questo c'è, perché magari l'ho tolto involontariamente ed è rimasto sul tavolo. Quindi io non posso arrivare a Milano e dire ops, ho dimenticato questa sacchetta. Me la devo accorgere il giorno prima. Mi prendo cinque minuti di concentrazione tra me e lo zaino. È un affare a due. L'altra questione, non mi fido mai della frase, tanto il Wi-Fi c'è. Spesso lo provano quando non c'è nessuno. arrivi là e siamo in una fiera. Migliaia di persone che entrano, si fanno i selfie e il Wi-Fi non c'è più. E allora mi porto fisso o un piccolo modem o un secondo cellulare che uso come modem, di cui nessuno ha il numero, perché si iniziano a chiamartici sotto, insomma, diventa anche complicato. E poi, anche quando non è previsto, spesso arriva la richiesta. Mi fai questa piccola intervista? Mi fai questo piccolo video? Cioè questa cosa la puoi riprendere? E allora, con somma e larità di solito dei cameraman che ci sono, tiro fuori un treppiede così, piccolo da dieci centimetri. Quindi mentre io faccio la diretta da una parte, il cellulare dall'altra si regge da solo e registra. Poi ci ho messo anche un piccolo microfono sia ambientale che invece a cravattino e così via. Delle piccole luci. Questa è proprio la foto, insomma, del mio pavimento dove ho riversato lo zainetto per farvi vedere, ecco. Poi, ovviamente, se mi serve, c'ho anche l'attrezzatura professionale se mi avvisano. Intendo il cavalletto, non il cellulare. E poi nello zaino ci metto un po' di superfluo, perché non di soli live vive la sottoscritta. Però spesso, quando il live finisce, oppure c'è una pausa, rivedo com'è andata i contenuti. C'è stato un orrore di battitura, è meglio farlo sparire. Se devo prepararmi, perché mi dicono che sono cambiati gli speaker e mi vado a vedere chi sono, mi ricerco sui social, se hanno dei profili. Quindi, spesso, devo avere tutto con me. L'altra cosa che mi porta appresso, per esempio, è un blocnotes. In questo caso, è una fiera, dove le persone mi vedono con il tavolino e vengono tutti a chiedermi informazioni. Sta parlando il ministro? Arriva il ministro, due milioni di persone e tutti che chiedono a me. Metto un foglio, non parlatemi, twittatemi, è anche l'hashtag. Se volete fate i tweet, se no non vi rispondo. Però serve per tanti altri motivi. Poi ho imparato a mettere un micro impermeabile e dei micro copri scarpe, perché dalla mattina alla sera parto da Roma con 20 gradi, arrivo a Bologna l'anno scorso con la neve. Sì, ho sbagliato a non vedere il meteo, ma il giorno prima avevo un altro evento e il giorno prima ancora un altro. Mi ero un attimo distratta e non sapevo più dove stavo. Arriva a Bologna, si moriva di freddo. Vi assicuro, ero partita da Roma così. E quindi almeno avere qualcosa con cui coprirsi se stessi e magari l'attrezzatura, e anche delle scarpe, perché poi avere le scarpe bagnate tutto il giorno è una di quelle cose antipatiche. E poi mi metto la mia borraccia e ringrazio per il riferimento di andarsela a riempire poi alle fontanelle, cosa che ho fatto, sono arrivata camminando leggera e poi ho riempito qui. E anche due snack, perché mi dicono, ma poi c'è il coffee break. No, io il coffee break appunto rivedo i contenuti e mi studio la sessione successiva. E poi biglietti da visita. Questo sono rimasta un po' offline, però il contatto ancora fisico e umano dello scambio del biglietto è ancora molto piacevole, ma devo sapere di averli e dove caspita li ho messi. E poi, niente, dopo che tutta l'orchestra è pronta, l'attrezzatore pure, possiamo di solito iniziare e che la musica abbia inizio anche nella nostra maratona social. Questo c'è nel mio zaino 2.0.